5 frasi di Gianluca Vialli Il 99% della battaglia consiste nel mettersi nel giusto stato d'animo. Ai colpi della vita i perdenti rispondono perché proprio io. I vincenti rispondono. Mettimi alla prova. Un grande allenatore deve essere lui stesso leader. Ma deve creare altri leader che in campo riproducano idee. Valori. Carattere. Ho vinto due campionati italiani. Di cui quello con la Sampdoria credo sia stato il più bello. L'uomo che dedica tutto se stesso al raggiungimento di un obiettivo. Che sa entusiasmarsi e impegnarsi fino in fondo e che si spende per una causa giusta. L'uomo che, quando le cose vanno bene, conosce finalmente il trionfo delle grandi conquiste e che, quando le cose vanno male, cade sapendo di aver osato. Quest'uomo non avrà mai un posto accanto a quelle anime mediocre che non conoscono né la vittoria, né la sconfitta. Quest'uomo non avrà mai un posto accanto a quelle anime che non conoscono né la sconfitta.